ciao ragazzi ben ritrovati nella moviola del vostro anti youtuber per eccellenza rigore controverso concesso da mariani in inter juve il solito rigore direi a favore della juve andiamo a vedere il fallo di danfries fallo che c'è su alexandro che pare si concretizzi fuori anche se ad onore del vero poi andando a vedere a lavare in maniera minuziosa si nota che nonostante la zona sia innocua nonostante il fallo si concretizzi fuori parta ai noi da da dentro aria purtroppo è una nostra ingenuità di un nostro giocatore quindi rigore nettissimo peccato peccato perché l'inter ha fatto una prestazione superlativa è vero che la juve stava attaccando durante tutto il secondo tempo ma avevamo rischiato zero come al solito ci siamo complicati la vita noi c'è stato qualche errore nei cambi ma tutti possono sbagliare ci mancherebbe c'è stato l'errore individuale di danfries ok c'è stato un attacco che ha funzionato parzialmente perché lautaro è sembrato un po' spesato però ragazzi quello che che mi rimane di ieri non può essere solo la ma quello non può essere solo l'amore l'amorezza del rigore un rigore che io sono convinto ok che a parte invertite a noi non avrebbero dato con la scusa del si concretizza fuori e questo è poco ma sicuro però se dobbiamo essere onesti e vogliamo perché noi siamo l'inter quello è fallo tutta la vita ripeto la zona erenocua e lo prende cade un po' dopo accento alexandro tutto quello che volete quello è rigore pur sciocco quello è rigore qualcuno dice qualche dallo studio sulle varie trasmissioni è no ma se l'arbitro è posizionato a un metro il var non può sbugiardare l'arbitro non è vero abbiamo dimostrato proprio loro con il famoso la famosa e finta espulsione di vesino sul finto fallo da rosso questi fanno quello che vogliono quando vogliono figuratevi ieri dove il rigore ripeto e ribadisco era netto giustissimo ragazzi però non ci limitiamo semplicemente a recriminare sul rigore oppure a dare la colpa a un dampris oppure a dare la colpa a un simone a me piace chiamarlo simone perché uno di noi e mettetevelo in testa perché già ho letto qualcuno no ma in zaghi ragazzi con in zaghi ieri hai fatto una prestazione superlativa eh ma hai pareggiato eh ma che colpa sua se poi davanti la porta geco che è un fenomeno spizza male oppure su un tiro di darmi agli rimane tra le gambe quelle sono una volta che ti mette nelle condizioni l'allenatore deve avere tre quattro cinque occasioni nitide a poi sono i giocatori non è che simone in zaghi poi deve entrare come una matrioska dentro la il giocatore e muoverlo lui calma ieri siamo stati bellissimi ma anche con la lazio per 60 minuti ieri siamo stati ancora più belli ci sono stati dei giocatori darmian ripeto sembrava avesse dei sosia in campo era dappertutto barella non ne parliamo che giocatore e mi dispiace che ieri c'era mancini perché ho paura che darmian lo convochi in nazionale io invece li voglio solo per me questi giocatori Perisic commovente e sapete per il sottoscritto quanto è stato orticante Perisic commovente e noi ci dobbiamo dobbiamo rimanere incazzati sì delusi incazzati perché il rigore sempre con la Juve sempre con il rigore però dobbiamo anche capire che tre quattro anni fa avremmo quasi firmato per un pareggio contro la Juve per quanto era superiore quest'anno loro si riportavano la palla a casa esultavano noi eravamo in lutto come se avessimo perso analizzate questo cambio di mentalità analizzate questo cambio di mentalità perché significa che stiamo diventando stiamo ritornando grandi perché l'inter deve sempre ambire a far ambire non far parte per forza perché anche i primi anni di mancini non facevamo parte dell'elite ma la nostra ambizione era sempre essere forte come Juve, Milan, Liverpool capito poi arrivamo a certi livelli e prendiamo Batoste però l'ambizione era quella ambizione non significa per forza pretendere che l'inter sia la squadra più forte d'Europa però stiamo tornando quelli perché una squadra che pareggia in casa con la Juve fa una prestazione della madonna ed esce dal campo distrutta significa che abbiamo intrapreso la strada giusta da qualche anno a questa parte. Sui cambi di Simone Inzaghi non voglio parlare possono sbagliare tutti ragazzi perché quando abbiamo visto Cialanoglu tutti quanti ma che cosa mette a fare Cialanoglu? Cialanoglu è stato spettacolare Cialanoglu ha propizzato il gol e quindi ha dimostrato, anzi ci siamo auto dimostrati che magari molte volte delle scelte non sono comprensibili però alla fine ha avuto ragione lui quindi Cialanoglu ha avuto stra ragione. Danfris ragazzi sì ha fatto una grande cappellata però l'intera deve chiudere la partita. Io è molto più colpevole il resto della squadra che non ha chiuso la partita piuttosto che Danfris. Per il resto loro è vero che hanno dominato il secondo tempo ma ha dominato senza avere azione da gol buttando la palla a casaccia al centro tutta questa grande squadra non l'ho vista e il loro obiettivo ieri il loro obiettivo ieri era agganciare l'Inter e non sono non ci sono riusciti sono back back alle nostre spalle così come lo è Bob quindi questa è la Moviola rigore giustissimo Inter bellissima sono fiducissimo ok per il resto se vi piacciono le maglie replica se non siete poveri come me non potete permettervi quelle originali vi lascio a checalcio.com una cortesia utilizzate il codice sconto M di Milano B di serie B come la Juve e il Milano iscrivetevi al canale attivate la campanella pollice su adesso testa all'Empoli noi abbiamo l'Inter nel cuore avanti Inter avanti curva Nord e sempre forza Mr. Inzaghi bellissimo quando si è fatto espellere